Contagi in aumento con 282 nuovi positivi e un virus inesorabile che continua a ammietere vittime. Sono 9 i morti in Italia nelle ultime 24 ore, ieri erano 15 le vittime e 129 i nuovi contagiati. La guardia deve rimanere alta e da qualche ora gli occhi sono tutti puntati sui centri di accoglienza per i migranti che rischiano di diventare pericolosi focolai. I turisti rimangono alla larga dalle cittadine che li ospitano, i residenti protestano, i governatori minacciano di non accogliere più stranieri e i sindaci chiedono maggiore vigilanza. La situazione rischia di esplodere. Rassicurazioni in questo senso però sono arrivate nel pomeriggio dal ministro dell'interno Luciana Lamorgese. Al question time la camera ha assicurato tamponi a tutti i migranti che sbarcano sulle coste italiane e un incremento dei controlli fuori dalle strutture che li ospitano. Sono 163 i migranti positivi al covid in questo momento e sono tutti sottoposti ad isolamento in diverse strutture del paese da Ragusa a Trieste controllati a vista dalle forze dell'ordine per scoraggiare subito eventuali tentativi di fuga. L'idea di calmare gli animi ricorrendo anche alle navi quarantena come proposto da qualche presidente di regione non dispiace neanche al Viminale stando alle parole del ministro si sta lavorando per individuarne almeno due da destinare a questo scopo.